Il mio nome è Andrea Paternoster, anche il mio nonno si chiamava così, Andrea Paternoster, stesso nome, stesso cognome. Anche per questo credo che il mio destino fosse segnato, dovevo essere apicoltore come lui e così è stato. Mielitun è un'apicoltura nomade. Per otto mesi all'anno sono un pastore e mi muovo da un luogo all'altro con le mie api. Loro sono il mio grege. Oggi ho portato le mie api sulla sponda orientale del lago di Garda. Qualche anno fa scelsi questo posto come dimora invernale e luogo di produzione per un bellissimo gruppo di 40 alveari. Mi affascinò la flora straordinaria che circonda il lago di Garda e la presenza di una targa molto significativa. All'entrata dell'eremo si trova scritto Nella magnificenza della natura risorgerà il mio spirito. Questo stavo cercando.